Invochiamo la Tua presenza Invochiamo la Tua presenza Avete anche gli anelli L'anello da sempre è considerato un segno Per ricordarci appunto di quanto noi abbiamo promesso Un segno di fedeltà Per gli sposi si chiama la fede E con la fedeltà ci ricordano l'impegno che abbiamo assolto Allora adesso vi chiedo di tenere sulla mano il vostro anello In modo che benediciamo voi la vostra intenzione e il vostro proposito Vosignore, Tu che sei fedele per eccellenza Fedele alla Tua parola Benedici questi giovani e sostieni sempre Con il Tua aiuto, con la Tua grazia Perché possano mantenere sempre nella fedeltà Il loro impegno oggi assunto Per Cristo nostro Signore Ammè Ammè Scusa Anna, ma noi ci amiamo, che problema c'è? Oggi mi amate, ma domani vi lasciate la persona che se ne va si porta via un pezzo di voi E vi sentite derubate Diavolo, è un ladro, è un ingannatore E un giorno c'era un signore che aveva un cane, no? E questo cane abbaiava sempre E praticamente lui è uscito fuori e ha scrittato cane Tornato a letto, ma cane continuava a abbaiare Secondo giorno non ce l'ha più fatta, è uscito fuori con un bastone Ha dato tante botte al cane, ma cane continuava a abbaiare Terzo giorno, lui non ce l'ha più fatta Ha preso un cugine, è uscito fuori, ha sparato il cane Ha andato a letto, si è addorbitato Dal cespuglio è uscito là Entrato in casa, ha rubato tutto e ha ammazzato il padrone Questo cane è la nostra coscienza Che da anni ci dice quali sono le cose giuste E quali sono queste sbagliate Ma noi tante volte non la dobbiamo sentire E finiamo per ucciderla E quando la uccidiamo Diavolo, ladro, serpente, esce fuori Ci deruba di tutto e uccide la nostra anima Io conosco tanti brevi esorcisti E uno di questi mi ha detto Ah, io tante volte in fuoco la Madonna di Međugorje in aiuto Nei esorcismi E una volta chiamano e mi diceva Voi siete tutti stupidi Perché voi adorate una statua Allora questo prete dopo un po' si è stufato E ha detto al demonio Ah sì Allora se questa è solo una statua Tu dimmi perché ti dà così tanto fastidio E lui gli rispose Perché quella ha un cuore Io accompagno tutti quelli che vanno a quel posto là Ma lei è più forte E me li porta a piatto Quindi io vi prego A međugorje 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 Grazie a tutti.